Mercoledì, 19 febbraio 2020, San Corrado con Falonieri. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Lo sapete, fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Infatti l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia un uomo che guarda il proprio volto, allo specchio. Appena si è guardato, se ne va e subito lo dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa. Visitare gli orfani e le vedove, nelle sofferenze, e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Dal Salmo 14 Signore, chi abiterà sulla tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia, e dice la verità che ha nel cuore. Non sparge calugne con la sua lingua. Signore, chi abiterà sulla tua santa montagna? Non fa danno al suo prossimo, e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Signore, chi abiterà sulla tua santa montagna? Non presta il suo denaro a usura, e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo, resterà saldo per sempre. Signore, chi abiterà sulla tua santa montagna? Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero a Bezzaida, e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio, e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese Vedi qualcosa? Quello, alzando gli occhi, diceva Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi, ed egli ci vide chiaramente. Fu guarito, e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo Non entrare nemmeno nel villaggio.